Aspetta, partito. Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano Manuolo Ferrari e sono qua alla libreria Google di Milano per presentare un progetto editoriale. È un progetto per un libro fotografico che si chiama Costales de Cuba, cartoline da Cuba, che nasce dalla volontà di condividere il mio amore per l'isola e raccogliere tutte le foto migliori che ho fatto durante i miei viaggi. È un libro piccolo, curato, economico e pieno di passione, che non ha l'ambizione e l'arroganza di voler mostrare tutti i voti di Cuba, ma che spera, nei suoi limiti, di dare una rappresentazione meno commerciale dell'isola rispetto ad altre pubblicazioni che sono in commercio. In un periodo di trupolenza editoriale dove anche i piccoli editori sono spesso timorosi nell'investire in autori poco conosciuti, ho deciso di intraprendere la strada dell'autoproduzione e utilizzare una piattaforma di crowdfunding di Produzioni dal Basso per finanziare e dare visibilità a questo progetto. Vi invito quindi a tutti a lesionare il mio progetto sul sito Produzioni dal Basso, digitando Postales de Cuba e, se lo riterrete valido, a contribuire al suo successo. Grazie a tutti e... Grazie a tutti. Grazie a tutti.